Smartphone, dieci ragioni per non regalarlo alla prima comunione e magari neanche alla cresima. Perché non bisogna regalare uno smartphone ai bambini? In Italia hanno fatto una ricerca qualche tempo fa alla Bocconi, tirando fuori i motivi per cui i genitori comprano lo smartphone ai bambini. L'età media adesso è proprio quella della comunione o della cresima, 9-10 anni, e i motivi sono perché ce l'hanno tutti, se no si sente escluso dal gruppo, perché lo desidera molto. In effetti sono tutti motivi veri, solo che non prendono in considerazione il fatto se effettivamente questo ragazzino è pronto. Allora perché non bisogna regalarglielo troppo presto? Ma intanto c'è una motivazione di carattere legale. I social media richiedono un'età minima di accesso, che nella maggior parte dei casi è 13 anni. Sia Facebook che Instagram che TikTok richiedono di avere almeno 13 anni per poter aprire un profilo. Addirittura WhatsApp ha alzato l'età minima a 16 anni. Ora, un genitore questo lo dovrebbe sapere, dovrebbe sapere che ci sono questi limiti, se non altro per decidere se li vuole rispettare e quindi può dire a suo figlio aspettiamo a prendere uno smartphone, quando potrai usare i social media? Perché è chiaro che se io regalo uno smartphone anche a un ragazzino di 9-10 anni, il motivo per cui lo vuole è proprio questo, cioè non lo vuole per telefonare alla mamma quando è in giro, come ci illudiamo noi genitori, ma lo vuole per accedere ai social media. Allora, l'accesso ai social media però è un'operazione piuttosto impegnativa, sia dal punto di vista emotivo proprio, che appunto dal punto di vista di entrare in un mondo che non è un mondo per ragazzi, cioè il mondo a cui diamo accesso attraverso lo smartphone è un mondo pensato da adulti e rivolto agli adulti, quindi entrare in questo mondo troppo presto e quindi avere accesso a contenuti, a situazioni che sono tipiche del mondo adulto può essere dannoso per un bambino, può rendergli difficile poi la crescita, allora dovremmo pensarci. Però in realtà noi vediamo i bambini che prendono in mano il telefonino della mamma o così e a cinque anni, a quattro anni sono in grado di muoversi con una agilità tutto sommato che noi neanche ci immaginiamo, noi adulti non nativi digitali, ecco. Quindi si ha l'illusione magari che siano capaci, no? In fondo. Esatto, infatti questo termine nativi digitali è un termine che viene molto usato che in parte è vero, cioè è vero che questi ragazzini appunto anche a quattro, cinque anni siccome sono nati in un ambiente in cui la tecnologia è la normalità, sanno usare questi strumenti però il loro uso è un uso molto superficiale, cioè fanno un uso legato a quello che vogliono ottenere in quel momento per cui il bambino, come cevi tu, di cinque anni che vuole vedersi un cartone sa sicuramente come andarselo a trovare, questo è indubbio, trova il modo. Però se noi estendiamo un po' questa capacità d'uso e ci chiediamo se effettivamente c'è una capacità di valutare quello che si sta facendo, se c'è una capacità di valutare le fonti l'affidabilità delle fonti, ci sono una serie di competenze che in realtà i cosiddetti nativi digitali non hanno quindi non dobbiamo sopravvalutare la loro capacità. Primo perché appunto non è poi così lo dicono alcune ricerche che sono state svolte, non è poi una conoscenza così profonda secondo perché appunto a 4-5 anni noi stiamo mettendo in mano effettivamente uno strumento che è troppo complesso da gestire. Le indicazioni dei pediatri, l'Organizzazione Mondiale della Sanità le ha date in modo molto chiaro, è che sotto i due anni non si dovrebbero usare schermi sopra i due anni al massimo un'ora al giorno e oltre i cinque due ore ma sempre con una certa supervisione quindi questo è qualcosa che davvero dovremmo cercare di non fare perché rischiamo di compromettere l'abilità di lettura, di linguaggio in un bambino il cui cervello è ancora in formazione. Spesso si accusano anche le persone di farlo per motivi religiosi, cioè in qualche modo non so su internet, su questi social media ci sarebbe un po' il diavolo, ci sarebbe il male e quindi com'è la realtà? Certamente non c'è solo il male, c'è molto bene nel mondo virtuale, su internet è un mondo ricco di opportunità ed è un mondo affascinante, appassionante anche per noi adulti quindi l'idea di introdurre in modo graduale e moderato questi strumenti nella vita di un ragazzino non è dettata dal fatto di resistere a un mondo soltanto negativo ma è dettata dall'idea di arrivare a usarli al meglio allora dobbiamo anche ricordare che i personaggi di spicco della tecnologia da Bill Gates che è il fondatore di Microsoft, Steve Jobs che ha fondato Apple anche al fondatore di Twitter, molti altri hanno dichiarato in più occasioni che in casa loro la tecnologia è entrata a 13-14 anni e con delle precise regole quindi se chi ha inventato questi strumenti è il primo a dirci che dobbiamo usarli in modo cauto in un certo periodo della vita, quindi stiamo parlando della preadolescenza e dell'adolescenza vuol dire che qualcosa di vero c'è secondo me, cioè dobbiamo effettivamente metterci nell'ordine di idee che sono degli strumenti di cui bisogna imparare l'uso come per un'automobile nessuno dà un'auto se non c'è stato un percorso di apprendimento, se non si è presa una patente ecco dovrebbe esserci una patente anche per lo smartphone secondo te i genitori sono in grado di gestire questo apprendimento graduale cioè loro stessi in fondo si sono ritrovati travolti in questa situazione e hanno imparato così un po' autodidatticamente certo, i genitori hanno bisogno di formazione hanno bisogno di qualcuno che li aiuti a prendere coscienza prima di tutto dell'uso che loro stessi, che noi stessi facciamo dello strumento che non è certo un uso ottimale, anche noi lo usiamo troppo lo usiamo più di quanto vorremmo e quindi questo è sicuramente un primo passo e poi avrebbero bisogno di momenti anche di scambio di riflessione su cosa è meglio per i propri figli anche semplicemente di consigli di attività da fare perché certe volte quello che manca sono le alternative per cui si va fuori a cena e tutti gli altri genitori danno anche a bambini molto piccoli lo smartphone per tenere buoni i bambini questa è una scena tipica se qualcuno magari si portasse delle matite per colorare dei fogli si potrebbe trovare un'alternativa semplicemente a volte è più faticoso cercare un'alternativa allora si sceglie la soluzione più semplice e indubbiamente lo smartphone è la soluzione più semplice perché se lo consegniamo a un bambino anche molto piccolo lo neutralizziamo però a prezzo di qualcosa che invece non vogliamo cioè la sua formazione sana dal punto di vista dicevamo della lettura del linguaggio ma anche emotiva dell'interazione per cui credo che i genitori abbiano bisogno in effetti di aiuto e un aiuto può essere intanto quello di scambiarsi fra di loro dei consigli delle buone pratiche delle buone abitudini delle risorse e poi riprendere in mano con realismo guardando con realismo come loro usano il mezzo come vorrebbero che i loro figli lo usassero e quindi riprendere in mano un po' l'aspetto educativo cioè siamo noi, noi genitori che dobbiamo educare i nostri figli anche se non siamo laureati in ingegneria informatica non dobbiamo conoscere alla perfezione gli strumenti però conosciamo i nostri figli sappiamo quello che è bene per loro e cerchiamo quindi anche attraverso l'uso di questi strumenti di arrivare a quell'obiettivo Qualche strategia ce la puoi suggerire? Allora una strategia per aspettare ad acquistare, a regalare lo smartphone può essere quella di per un certo periodo di tempo farne un uso condiviso quindi il cellulare del papà o della mamma che viene usato anche dal figlio non so se si vuole aprire un profilo su Instagram o su TikTok che ripeto sarebbero riservati ai maggiori di 13 anni si possono aprire sul telefono del genitore in modo che ci sia un possibile controllo e anche un dialogo su quello che si fa attraverso questi social media è chiaro che è una scelta un po' faticosa perché significa complicarsi un po' la vita nel senso che intanto se il genitore deve far usare il suo smartphone a suo figlio anche per un periodo limitato della giornata però deve farne un uso più moderato lui e poi certamente per il ragazzo è più complicato perché è vero che oggi la vita sociale passa anche attraverso l'uso dello smartphone anzi soprattutto quindi se c'è un gruppo WhatsApp si può comunque gestire attraverso il profilo della mamma anche perché se noi una cosa a cui bisogna pensare è che se noi regaliamo uno smartphone a 10 anni e poi apriamo un profilo su uno di questi social media dobbiamo comunque mentire cioè la prima cosa che facciamo con il nostro figlio è dire una cosa non vera cioè dobbiamo dire che ha 13 anni anche se ne ha 10 allora questo dal punto di vista educativo è rilevante cioè dobbiamo in qualche modo spiegarlo se lo facciamo dobbiamo spiegare al nostro figlio che sarebbe una regola da rispettare in questo caso però è una situazione eccezionale e non la rispettiamo altrimenti il messaggio che passa è che le regole si possono anche non rispettare quindi quando poi il nostro figlio non vorrà andare a scuola o non vorrà fare i compiti beh dopo sarà più difficile sostenere la nostra tesi perché noi per primi gli abbiamo detto tanto dovresti avere 13 anni nei 10 fa niente cosa significa per un ragazzo per esempio io ho in mente una mamma che era molto preoccupata perché le relazioni più importanti di suo figlio che comunque ha già oltre 13 anni quindi non c'è problema ma sono principalmente sui social media in particolare ha una ragazza con la quale scambia cuoricini e altre amenità di questo genere ma come dire lei è preoccupata perché dice in fondo sta costruendosi un amore illusorio la decisione di aspettare a regalare uno smartphone è un primo passo perché poi questo smartphone arriverà sarà 13 sarà l'età che insomma si decide però a un certo punto il ragazzo ce l'avrà allora lì comincerà per il genitore anche un lavoro di accompagnamento a conoscere meglio questo mondo che deve passare dal dialogo il più possibile dalla condivisione allora questo rapporto molto virtuale è certamente qualcosa a cui prestare attenzione i problemi nascono quando diventa esclusivo allora se un ragazzino ha effettivamente soltanto rapporti di questo tipo cioè i rapporti a cui tiene sono tutti di questo tipo e questo deve essere preoccupante se sono mescolati, combinati con rapporti reali per cui se il ragazzo continua a giocare a uno sport continua ad andare a scuola continua a vedere i suoi compagni in più ha un'amica così è un po' come l'amica di penna o l'amico di penna che avevamo cioè può essere inserito il problema è sempre quello di inserire l'uso di questi strumenti in un contesto più ampio cioè appunto in questo caso in un contesto di vita normale di un ragazzino di 13 anni i problemi nascono quando l'uso di questi strumenti diventa esclusivo e totalizzante allora sì se io passo 6 ore al giorno soltanto a chattare e poi non mi interessa vedere le persone è chiaro che quello è un problema ma se si riesce a mantenere un bilanciamento sano allora dobbiamo anche essere disponibili noi genitori a capire che c'è qualcosa del modo in cui i ragazzini usano questi strumenti che per noi rimane un po' difficile da comprendere cioè il fatto che per esempio ci siano appunto relazioni virtuali dove passano emozioni reali per cui c'è una realtà in questo rapporto poi è chiaro che noi dobbiamo in tutti i modi far capire che comunque quello che conta è la realtà quella che ti circonda davvero le persone con cui davvero poi passi il tuo tempo i rapporti faccia a faccia cioè dobbiamo sempre cercare di mantenere insieme questi due piani il più possibile però con una disponibilità a capire che noi non riusciremo probabilmente a renderci conto di quanto possa essere importante per un ragazzino anche avere questo tipo di relazioni virtuali e quindi